Massimo mi fa venire in mente un caro ma quando sento dire anche una donna, io capisco Belen e di detta le otta ma persone come me e mia moglie che mi dicono ah no mi devo preparare, mi devo truccare veramente un po' più giù se no escono i capelli da lì, bravissimi Massimo facciamo intanto ma da dove mi risponde? Mi auguro da Messina Messina per me vuol dire Gazzetta del Sud quindi Paolo Cuomo che oggi deve essere il quarto, quinto all'interno del giornale forse il terzo, vuol dire Mauro Cucè che ogni tanto mi fa scrivere Paolo adesso è passato di rango poi vuol dire Valerio Mermiglio che è un suo grande amico che spero di fare per ore poi mi faccio pensare Rosalba della Pallavolo secondo me non sono certo sia messinese no, mi sa di no poi ecco, bravo bravo non l'avevo in programma il problema è che i palanotisti, escluso Martina Miceli ma sa perché secondo me sono antipatico a Martina? perché un paio d'anni fa ha fatto un time out incredibile in cui diceva cretina, una cosa memorabile non ho mai sentito una cosa così esilarante io ho fatto il video quindi magari l'ha visto e ha pensato ma chi è questo qua? beh insomma io mi occupo di spot da 30 anni un time out così particolare non l'ho mai visto no, poi aspetti ma invece nel calcio chi sono i più grandi? adesso voglio aprire su wiki per non dimenticarmi qualcuno messinesi nel calcio tanto di quel quartiere è Giacoppo? io sono della zona nord zona mare diciamo torrefaro insomma la punta io sono venuto una sola volta io sono venuto una sola volta a Messina cioè in Sicilia e andai appunto alla Gazzetta del Sud anche ho fatto il giro delle redazioni il problema è che non avevo gli smartphone e quindi oggi oggi Massimo come dire pur gratis a mie spese anche con difficoltà perché sa il web è bello però parte che devo ringraziare Waterpolo People ovvero Mario Corcione che mi sta valorizzando perché se no ho perso un anno fa il mio canale e sarei oggi a 12 milioni globali di visualizzazione e 11 mili iscritti oggi sono a un dodicesimo purtroppo sto guardando gli sportivi siciliani primoro alle Olimpiadi Francesco Gargano ah ma questi sono siciliani mica messinesi Catania sì sì no perché Messina allora lo stadio San Filippo lei è stato Massimo allo stadio? Vanni diamoci del tuo no io do del lei nelle interviste Massimo a chiunque anche ai ragazzini sì sì no no lei può dare del tutto tranquillamente è stato allo stadio San Filippo sì sì assolutamente tra l'altro 38 mila tra l'altro vede a me nello sport tengono spesso fuori in senso letterale Giovanni Celeste 12 mila perché avendo questa abitudine di fare video su video nello sport ai massimi livelli ci sono i diritti d'immagine e comunque anche ai più bassi livelli sa immagini massimo che io venga sono stato alla Prorecco alla semifinale di Champions League due anni fa poi sono stato a un'amichevole benefica per gli alluvionati e poi sono stato a Bologna per una partita di Champions della Prorecco con i Magiari e lì c'erano i diritti di Sky quindi la preghiera era di non inquadrare la vasca poi quella sera ho conosciuto forse anche sì ne ho conosciuti un po' però possiamo poi fare intervista lunga e comunque dico questo Massimo in generale io intervisto tanto anche i parenti di recente ho fatto il papà di Colaci del volley e ho inquadrato la mamma a quel punto Massimo mi ha chiesto di smettere perché percepiva l'imbarazzo della mamma e per esempio la volta che sono venuto a Genova ricordo la famiglia Tempesti lui aveva una bambina o sì aveva una bambina piccolissima e c'era anche la moglie mi pare tra l'altro caro Massimo poi insomma la lascio alla cena e poi riprendiamo in un altro momento no mi completa il discorso perché qua non ho soddisfazione ci sono la Sicilia è grandissima altri altri grandi sportivi siciliani no Messina c'è Vincenzo Nibali bravo sì ovviamente farò in questo modo il fratello che viene detto lo squaletto e l'ho conosciuto e c'è anche Tony Cairoli bravo poi c'è Daniele Sottile nel volley questo l'ho fatto di recente sto guardando i regbisti c'è anche Giovanni Ficarra nella canoa ottimo poi c'è Daniel Ricciardo che è di origine messinese questo lo so però non so se ci arrivo è un australiano ha origini di Ficarra proprio il padre Gio è nato a Ficarra e quanti quanti abitanti ha tanti ma saranno 300 mila penso 250 300 vedo che c'è una squadra di baseball a Messina il Cus Messina poi c'è Randazzo no non è Messina Randazzo è provincia ah sì è provincia quindi c'è un'altra squadra di baseball a Randazzo e senta le dico noi siamo venuti con mia moglie credo fosse il 2008 qualcosa direi era il 2008 è Messina oggi no è ricca è povera è sicura per renderle l'idea Massimo io da anni un po' ho smesso a Reggio Emilia perché poi ci sono tanti stranieri ma io cerco in particolare strani stranieri intendo di paesi inconsueti qui ci sono molti ganesi senegalesi insomma nigeriani nigeriani io cerco paesi inconsueti parlavamo esattamente la sua storia straordinaria quella del buddismo ci arriveremo ma se io girassi mi aggirassi di notte a Messina fermando gli stranieri per fare i video è pericoloso mi rubano il telefonino a Reggio Emilia vicino alla chiesa dove ci siamo sposati stavo a distanza apposta ma secondo me lui lui voleva rubarmi il telefonino non so di che nazione fosse è pericoloso è tranquillo ma ci sono ovviamente dei quartieri un po' più a rischio per questo genere di cose però se ci si aggira per le vie del centro non la vedo una situazione problematica Milazzo è Messina si si provincia di Messina quindi è in serie C adesso in Lega Pro no si questo non lo so non riesco bene a capire sembrerebbe in Lega Pro Termitana anche no Termitana no quelle Termini serie D oh ci sono ancora le due squadre di calcio a Messina no ne è rimasta una ah si sono fuse si sono rifuse non so effettivamente ah poi c'è il Brolo Tiger Brolo lo leggo qua si 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 Brolo e Messina con la provincia l'Orlandina di basket esatto e con la provincia c'era Pozzecco esatto a quanto arriviamo di abitanti con la provincia non lo so perché la provincia è veramente molto vasta perché la parte nord da Messina a Palermo insomma ci dividiamo le province di tutta la costa nord della Sicilia sa che è comunque una sorpresa pensare a Messina pensavo fosse in un posto cioè so che è di Messina però pensavo si fosse spostato ecco con la provincia arriviamo a 640.000 abitanti adesso voglio vedere città metropolitana di Messina se mi fa vedere i paesi più importanti no non me li fa vedere piano piano beh sa a me piacerebbe venire lì armato di telefonino però devo ancora andare ad Ascoli che è un po' più vicino è meno affascinante però aspetti che ho trovato le località quindi ecco Barcellona Pozzo di Gotto 41.000 Milazzo 31 poi scendiamo direttamente a 13 vorrei venire per il basket poi Patti Lipari le isole vorrei intervistare un familiare di Scoglio c'ero anche vicino Sant'Agata Meditello Taormina ovviamente venimmo anche con mia moglie Santa Teresa di Viva non l'ho mai sentita e invece Giardini Narsos era popolare per il premio televisivo che presentava un reggiano Daniele Piombri adesso invece mi dice mentre io cerco la sua scheda Massimo i tre piatti tipici messinesi beh allora il primo piatto dico anche perché è quello che mi piace di più sono gli involtini di pesce spada alla ghiotta una salsa a base di pomodoro con capperi pinoli olive poi sono tanti modi di cucinare il pesce però noi andiamo forte anche sui dolci la grana la pasticceria tra l'altro sono stato in Sicilia mi stavo dimenticando a Catania ma pochi giorni insomma ho folleggiato poco il video sono venuto per il volley femminile sono stato pensi allo stadio Cibali di notte da solo no di notte insomma di sera mi sono fatto portare in taxi e vabbè e il terzo piatto invece? terzo piatto quindi i dolci in generale mettiamo un secondo mettiamo un secondo di gli involtini di carne involtini alla messinese sono veramente io non mangio più carne però mi ricordo che erano veramente squisiti Massimo adesso ho trovato la sua scheda ma quindi gioca nell'ortigia? sì pensavo a essere smesso però ma è tuttora in nazionale no? no 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 adesso non più due robe invece private se le va sposato fidanzato fratelli sorelle con il singolo due fratelli di cui uno gioca a pallannuoto nel Cus Messina categoria? A2 Ortigia 1 sì Ortigia 1 sì abbiamo chiuso il campionato al terzo posto e aspettavamo di giocare la finale di Coppa Land ah addirittura centro vasca mi aiuti che faccio confusione il centro vasca non è il pivot è quello quello è il centro bovano beh sì quello è il centro bovano sì sì tra l'altro le ha compiuto 37 anni tre giorni fa esatto Argento alle Olimpiadi di Londra vedo le squadre Messina 2 anni Ortigia 3 Prorecco 2 Catania 1 Savona 2 Prorecco 5 e questa è la quarta stagione nell'Ortigia di tutto questo da titolare immagino tutta l'Ortigia a Messina dai 18 anni perché era non in A1 la prima Ortigia no in realtà Messina ha fatto anche un anno in A1 ah addirittura secondo 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 suo sì 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 ma era titolare sì 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 quindi Messina tutto titolare Ortigia anche Prorecco no o sì no Prorecco la prima fase nei primi due anni no poi poi sempre un po' di più Catania dove era in A2 no no in A1 lì titolare no ovviamente sì 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 Savona A1 Bienio titolare sì diciamo di sì alternavo altri due difensori poi le cinque stagioni alla Prorecco l'anno che ha giocato di più come minutaggio era comunque nei primi sette Massimo o erano solo sì però sa nella pallannuoto comunque si cambia molto quindi non c'è un titolare non c'è scritto qua ma è uno che segna molto no generalmente no nelle ultime stagioni diciamo perché sono sempre stato difensore le ultime stagioni ah difensore ah bomba sì sì ah no no difensore so che quindi va a marcare il pivot avversario ah perfetto perfetto no no mi scusi ma centro vasca adesso ho capito cioè me l'avevano anche ma faccio un pizzico di fatica è più facile il calcio se uno il calcio è un pizzichino più facile o mi dice tutti gli allenatori Massimo allora ho avuto Messina Patrizio Rosiello e Carlo Scuderi poi De Andabovic di dov'è? eh di dov'è? di che nazione? De Andabovic è un montenegrino che ha vinto le olimpiadi nel 68 se non sbaglio da giocatore da giocatore lui era in squadra con Rudic perfetto poi all'Ortigia chi ebbe? all'Ortigia ha avuto Danny Lusic di dov'è? sempre gli stranieri mi dica di dove sono sempre un croato due volte campione olimpico poi ho avuto Pino Porzio a Recco per tanti anni poi Milanovic poi che è sempre serbo Milanovic sempre serbo poi Mistrangelo a Savona Francesco Scuderi e Sergio Afric serbo anche lui a Catania e poi Piccardo a Siracusa alla Pro Recco chi ha avuto? dall'11 al 16 dall'11 al 16 ho avuto Pino Porzio poi è andato via è venuto Tempestini poi Milanovic poi Pomilio e poi basta ho invece invece quindi con la nazionale l'argento olimpico un argento in World League e un argento agli europei sto guardando in realtà ho anche un bronzo agli europei agli europei argento e bronzo allora è incompleto poi quindi sei scudetti vedo con la Pro Recco sette scudetti sette allora non hanno aggiornato quindi cosa manca quello del sette le coppe d'Italia sono sei gli scudetti sono sette Eurolega due questo lo so no Eurolega sono quattro in realtà quattro sì allora va aggiornato Coppa Len una Savona questa è giusta Coppa Len una Savona Super Coppa Len due con la Pro Recco è giusta esatto sì Tiogo arrivando alle ultime scheda Federnuoto vediamo scheda Federnuoto e ah quindi cucina da solo cioè vive da solo sì vivo da solo sì 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 però non sono un grande chef spesso qualcuno che cucina per me il peso è ancora giusto 184 cioè 184 per 92 chili è quello più o meno un po' meno questo 90 adesso il primo tecnico Patrizio Rosiello ecco qua poi questa è una scheda su Rarinantes anche ecco Massimo la lascio con questo no poi riprendiamo più tardi o un altro giorno quando vuole lei Massimo dipingiamo il sette bello della sua vita cioè i migliori sette con cui ha giocato se proprio vuole farne due potremmo fare uno di club e uno di nazionale possibilmente Massimo un pizzico eterogenei perché è evidente che prendiamo la Prorecco anzi sia in nazionale che di club i migliori sette sono sicuramente sette della Prorecco evidentemente beh non non necessario però miglior portiere Tempesti evidentemente assolutamente poi miglior centrovasca con cui ha giocato in club Felugo Felugo ah quindi era un difensore anche Felugo no? no no ma centrovasca guardi lasciamola stare come definizione centrovasca quindi Felugo Felugo centrale i due accanto a Felugo Felugo come playmaker playmaker come regista bravissimo regista i due accanto? beh come attaccanti Casas ovviamente ungherese alla Prorecco sì dall'altra parte dall'altra parte metterei Tibor Benedek e Madaras aspetti due ungheresi no ma io intendo Felugo è centrale il playmaker centrale no? diciamo sì e Casas è centrodestra è sinistra quindi centrosinistra centrosinistra centrodestra chi mettiamo? è appunto Benedek diciamo ok poi Varga ha detto l'altro nome poi le ali no Casas ha detto no Madaras Madaras che è un gherese dove lo mettiamo alla destra o sinistra? alla destra perché è mancino manca un'ala sinistra poi alla sinistra mettiamo Sandro Suc no? croato ok tutti alla Prorecco? sì ok e il Centro Boa il Centro Boa Boris Lokovic di dov'è? Montenegrino ok il più grande allenatore il più grande presidente il più grande DS che ha avuto? Pino Porzio allenatore Ferretti DS Massimiliano Ferretti DS dove? a Recco non sapevo facesse il DS e come presidente Gabriele Volpi e se invece chiudiamo questa parentesi sulla nazionale i migliori sette della sua nazionale quindi Tempesti forse Felugo sì Tempesti Felugo poi Giorgetti che ruolo è Giorgetti? Giorgetti è i due attaccanti? sì gli attaccanti Giorgetti e Giorgetti e Di Fulvio ok e quindi Felugo Giorgetti Di Fulvio e poi ci mancano le due ali e poi da quel lato beh Nazionale Gallo sicuramente e Centro Boa ai Carli quindi forse me l'ha detto ma mi è sorgito uno quindi Tempesti poi Gallo Gallo in fuoco a destra abbiamo Gallo e Felugo ok al centro poi al centro abbiamo il difensore allora eh il difensore difensore Zettebello Buonocore Buonocore poi abbiamo detto di Fulvio di Fulvio a Giorgetti e al centro ai Carli allenatore beh ha avuto solo campagna no? in nazionale quindi per forza ma ha avuto anche Malara ah ecco Paolo Malara che ho raccontato ieri sera in lungo invece 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 la più le tre più grandi gioie quando quando si è commode le tre più grandi gioie quando la più grande delusione è palanotistica quando ha pianto di rabbia o giù di lì insomma ah ma c'era gli europei quelli del gol non gol? no no non c'era non c'era la prima grande manifestazione che fece quale fu? con la nazionale è stata l'euro l'europeo di Belgrado nel 2006 con Malara appunto verso l'Olimpiade quindi ha fatto quante Olimpiadi? una sola quindi quella del 2012 e quanti mondiali? mondiali 1 Kazan Kazan 12 15 quanto arrivaste? quarti quarti battuti dal Montenegro anche no? no nella finalina battuti dalla Grecia poi invece Olimpiade quindi battuti in finale dalla dalla Croazia Croazia quanto? ricordo un paio di gol almeno 7 a 5 sì poi invece europei quanti? europei europei sono ogni due anni gli europei sì quindi beh la più grande gioia è sicuramente l'argento olimpico sì sicuramente la semifinale con chi fu mi aiuti Russia? no? alle olimpiadi contro la Serbia la semifinale ah quindi l'impresa fu la Serbia perché poi la finale l'avete perdita anche i quarti di finale era l'Ungheria contro? con l'Ungheria ah con l'Ungheria perfetto quindi le più grandi gioie direi la Serbia e l'Ungheria sì due diverse e poi magari ma aspetti quindi sto guardando se ha vinto beh magari il primo scudetto chissà ma sì il primo scudetto sì è bello invece quando ha pianto di rabbia una vittoria sfumata ecco credo che la finale la finale persa 7 a 5 insomma no? c'erano grandi aspettative anche perché di finali se ne gioca una credo che anche altri di finali olimpiche ne abbiano giocata una assolutamente buono buono